C'è il manichino di De Chirico del 1972 a fianco della colomba di Picasso, gli sbandieramenti di Balla insieme ai bevitori di Sironi, ma anche la natura morta di De Pisis, la fabbrica di Guttuso e il pittore con modella di Manzù. Sono alcune delle 46 opere provenienti da collezioni private che danno vita alla mostra dalla guerra alla pace 1918-2018 a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Un'esposizione per celebrare i cento anni dalla fine della prima guerra mondiale e per trasmettere un messaggio di speranza. Cento anni quindi per parlare di guerra, quindi un punto di partenza, parlando non solo di guerra in senso lato, non solo quindi di battaglia, di campo di battaglia, ma anche proprio di comunicazione, di colore, di segno, di forma e di linea nelle sue mille sfaccettature. Il percorso inizia con le immagini dei conflitti di Morando e Levis e prosegue tra arte figurativa e arte astratta, immergendo il visitatore in cento anni di storia. Le opere sono significative di questi cento anni di arte contemporanea, cento anni in cui si sono succeduti vari movimenti, qui rappresentati dal futurismo, dallo spazialismo, dall'arte nucleare, quindi tutta una serie di linguaggi che nel tempo si sono succeduti e hanno via via dato spazio alle correnti che ancora oggi in maniera diversa possiamo frequentare, ovvero l'arte povera, le installazioni, le performance e tutta l'arte concettuale ormai di questo secolo. Un'esposizione per promuovere e dare continuità attraverso l'arte contemporanea al percorso di educazione alla pace che l'Assemblea Legislativa Piemontese ha avviato al Salone del Libro e sviluppato con diverse iniziative sul territorio. Oggi non bisogna più parlare di pace, bisogna pretendere la pace e ognuno di noi che parla di pace deve essere un operatore di pace perché i momenti sono difficilissimi ma i momenti più sono difficili e più l'uomo può tirare fuori il meglio di sé. Dalla guerra alla pace 1918-2018 promossa dal Consiglio regionale con l'Associazione Culturando Insieme di Cherasco rimarrà aperta al pubblico fino al 14 dicembre. Orario da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30. L'ingresso è gratuito.